Domenica, primo appuntamento stagionale con il Barano, un primo derby, che partita ti aspetti e l'ISC è pronta? Sì, sicuramente stiamo lavorando per questo, per farci trovare pronti e sicuramente sarà una partita importante, un primo test che ci farà capire di che pasta sarà fatto questo campionato e che c'è da soffrire, la prima partita che sarà questo derby contro dei nostri amici che adesso sono avversari. Sicuramente stiamo lavorando per farci trovare pronti e sono fiducioso. Comunque, a differenza dell'anno scorso, magari possiamo trovare un lieto fine, però sicuramente la metodologia è un po' diversa e cercheremo di mettere in atto quello che ci chiede il mister, sperando che alla fine il risultato sia quello che conta di più, quindi sia favorevole per noi. Sicuramente, ti ripeto, il campionato inizia la settimana prossima, ma la Coppa Italia è una vetrina importante, anzi è una prima prova importante per farci, per vedere a che livello siamo, se siamo pronti e poterci migliorare per affrontare al meglio il campionato. La piazza è giusta che, come i tifosi, possono aspirare ad avere Messi, ad avere Ronaldo, è giusto così. Però, ripeto, la squadra che andrà in campo sarà Lischia, ma a prescindere di chi sono gli interpreti, a prescindere se è Davide, Pasquale, Saverio, voglio dire la realtà è che andrà in campo Lischia, quindi i tifosi dovranno sostenerci perché se perdiamo perde Lischia, non perde Davide, se vinciamo vince Lischia, non vince Davide, quindi speriamo che tutte le componenti, sia i tifosi, la società, noi squadra, gruppo staff tecnico, tutti quanti andiamo dalla stessa parte, magari si può raggiungere qualcosa di importante. Sappiamo che è difficile, perché anche se tutte queste componenti vanno dalla stessa parte, non è detto che si raggiunge un obiettivo. Adesso da dove può arrivare questa squadra? Io posso dire pure che arriviamo ultimi, oppure arriviamo primi, ma sono chiacchiere, lasciano il tempo che trovano, perché poi alla fine è quello che conta il campo e da domenica inizia a contare, perché là c'è bisogno di vedere di che pasta siamo fatti.